Castro, fa salire Radovanovic, questa volta non calcia, tanto spazio per Cacciatore, ancora l'ex giocatore dell'Ellas, prova il cross al limite, Lukasz Leiva recupera, Radovanovic, deviazione in area, inglese Pucciarelli! Chievo 1, Lazio 1, la firma di Manuel Pucciarelli, la prima con la maglia del Chievo in campionato al 34 e 1 a 1, con merito la squadra di Maran trova il pari dopo l'occasione d'oro, sciupata da Immobile e Pucciarelli a sbloccarsi in questo campionato a firmare la sua prima rete qui al Vente Godi dopo il rimpallo, trova la conclusione in collo pieno, non prova neanche l'intervento Stracoscia, Emanuel Pucciarelli si sblocca, qui Radovanovic il tiro, la deviazione di Wallace, inglese, poi Pucciarelli in posizione regolare!